Ciao a tutti, mi trovo a fare un concerto. Guardate questo leggio, è scomodo da morire, perché quando giro le pagine, le pagine si rompono e soprattutto è impossibile una voltata veloce. La soluzione è solo una, si chiama lectorile, se voi non lo conoscete ve lo presento io. Il lectorile è uno strumento semplicissimo, voi lo applicate qui sopra e che voi abbiate due fogli, o ne abbiate uno, due, tre, quattro, cinque fogli, voi avete risolto il vostro problema. Ricordatevi, lectorile, per una voltata di pagine sicura, sia che voi siate organisti, pianisti, flautisti, violoncellisti, violisti, quello che volete, il lectorile risolve i vostri problemi. Ciao a tutti.